Guarda, se tu vuoi uscire con una ragazza a fare colpo, la roba migliore qual è? Ti ricordi i film dei nani Moretti? Non uscire! Cioè, mi si nota di più. Non andare! Tu non vai! Lo so che è brutto, però lei... Cioè, poi si ricorda, capito? Magari male, magari dice Ah, quello là è quello che non è uscito con me. Comunque, puoi sempre inventarti una scusa. Adesso c'è il cellulare. Scrivi delle robe a caso e dici, boh, mal di pancia, la nonna, la zia, devo cambiare le corde della chitarra, non so. Magari qualcosa di più, il gatto. Il gatto è una roba che sta male il gatto. Nessuno verrà a opinare il vomito del gatto, capito? Non è che uno viene lì Eh no, in realtà hai fatto finta i yogurt. No, c'è, nessuno lo farà. Per cui il vomito del gatto è una buona scusa. Non esci, stai a casa però, non andai al bar perché magari fai selfie e poi lei lo vede. E altri suggerimenti non ne ho perché io poi non esco mai. Non so, questa roba è qua.